Siamo con Francesca Ceccioni della scuola primaria di Montalcino, a cui poniamo intanto una prima domanda, su cosa ne pensa del progetto qua al Museo di Murlo, un museo per tutti? Sicuramente è un progetto da condividere e anche da sostenere in tutti i sensi, perché veramente è un modo importante per avvicinare sia i ragazzi che hanno delle problematiche ma anche tutti quanti i cittadini a poter usufruire di quelli che sono i beni culturali e quindi anche di poter fare una visita al museo in maniera attiva invece che in maniera passiva e quindi di poter veramente riuscire a percepire quello che davvero in un museo c'è e quello che il museo offre. Per cui direi veramente lodevole l'iniziativa, lodevole il progetto, ripeto, da sostenere in ogni modo, sia con pensieri ma anche con azioni, quindi da proporre agli altri e chi ha dei mezzi disponibili, insomma anche in piccola parte, credo che ne valga la pena donarli a questo progetto.